buongiorno ragazzi allora questa mattina andremo a vedere come collegare il bluetooth al nostro da site app per far sì che quando arriva una telefonata ci mostra il nome del chiamante non solo il numero perché parecchi di voi mi hanno chiesto questa cosa perché hanno dei problemi non riescono a fare quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare su impostazioni e bluetooth del da site andiamo poi sul nostro telefono andiamo a vedere le impostazioni del bluetooth allora dobbiamo fare una nuova ricerca vedete il car kit è il bluetooth del da site qui già mi ha trovato quindi dobbiamo connetterci a questo dispositivo con quattro zeri 1 2 3 e 4 nelle opzioni qua sotto vedete consenti l'accesso ai contatti alla cronologia chiamate perché altrimenti non vi sincronizza la rubrica ecco perché non vedete poi il nome di chi vi sta chiamando in riuscita a sincronizzare la rubrica clicchiamo su questa opzione consenti l'accesso ai contatti e alla cronologia diamo ok car kit connesso adesso si fa tutto dal tablet vedete la rubrica già vela sincronizzata in automatico se non dovesse sincronizzare la rubrica dovete andare io chiaramente adesso la rom che di al 9k non è quella originale del da site ma è la stessa cosa per quella originale poi sotto io ho l'icona qui vedete da qui schiacciando qui si sincronizza direttamente la rubrica via bluetooth tra il telefono e il da site a voi avrete una rotellina qua sotto per chi ha la rom originale da site a va schiacciata quella rotellina che serve per sincronizzare la rubrica quando arriverà una telefonata da adesso in poi si vedrà anche il nome del chiamante che abbiamo in rubrica vi faccio vedere subito allora andiamo sulla home e proviamo a fare a ricevere una telefonata sto chiamando vedete adesso compare il nome non il ok alla prossima ragazzi